previsioni meteo per sabato 20 luglio al nord cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino nel pomeriggio locali rovesce a ridosso di alpi e prealpi in sconfinamento alle alte pianure al centro giornata ampiamente soleggiata salvo nuvolosità cumuliforme isolate acquazzoni in sviluppo sull'appennino al pomeriggio al sud condizioni di bel tempo con sporadici annuvolamenti diurni in formazione a ridosso dei rilievi venti deboli mari calmi o poco mossi temperature stazionarie al nord in aumento al centro e al sud